Il nome Academy and Festival inizierà il lunedì 6 giugno, finirà il 12 giugno, si tratta di un progetto didattico culturale. Noi abbiamo selezionato in tutto il mondo 12 giovanissimi musicisti che sono delle grandissime personalità artistiche. Questi ragazzi verranno qui a Cortona per affrontare questo corso di alto perfezionamento totalmente gratuito e avranno l'opportunità di studiare dai migliori. Quindi invito anche chiunque abbia voglia di venire ad assistere alle masterclass perché sono aperte al pubblico e sono un momento interessantissimo proprio per avvicinarsi alla musica classica e capire quanto lavoro c'è dietro l'esecuzione del concerto. Anume è un festival di spessore, musica classica ma soprattutto è un'accademia quindi si potrà apprezzare i musicisti che passano dai docenti agli allievi e comunque è un festival che è polverizzato in varie location. Noi siamo molto soddisfatti di questo e ringrazio l'assessorato, tutto il team ma anche Natalie perché con lei che ha voluto fortemente il festival su Cortona il festival veniva organizzato come target in altre località quindi averlo portato qui da noi vuol dire aver alzato il livello anche culturale di Cortona e non è il solo festival ma arricchisce comunque il calendario che abbiamo già esposto. Cortona sta dimostrando di essere non solo all'altezza ma di proporre interventi, eventi, conferenze, concerti di alto livello. La particolarità che da punto mio di vista, da punto artistico di vista ci sembra molto molto importante è che i giovani si possono esibire accanto ai loro docenti in concerto. Cioè loro arrivano qui, noi organizziamo gruppi di musica da camera, in questo caso quartetti di archi perché siamo un'accademia di strumenti di archi. Ci si organizza in gruppi, si comincia a lavorare e alla fine della settimana il frutto del lavoro verrà esibito in un concerto. I ragazzi che studieranno nell'accademia sono già dei talenti affermati a livello internazionale, alcuni di loro hanno vinto dei concorsi internazionali come il Nielsen o il Sibelius e saranno qua una settimana per studiare insieme a dei grandissimi nomi e dei grandissimi professori. Questo permetterà di essere integrati nel tessuto sociale e cittadino ma soprattutto di far squadra, diciamo così, fra allievi e maestri di cui sentiremo il risultato finale del loro lavoro appunto nei concerti durante la settimana. Grazie.